Ho iniziato a fare consulenze, quindi prima ero io che facevo le consulenze e mi ricordo ancora che tornavo a casa dopo l'allenamento, dopo la partita mi avuto a fare le consulenze fino a mezzanotte, l'una poi stavo sveglio anche tutta la notte per studiare e lavorare perché un conto era fare le consulenze e un altro conto era uno, operare per conto mio e due, costruire quello che potesse essere quello che oggi è in realtà l'azienda di consulenza, software e tutto il resto